Buongiorno Mirko, buongiorno, buongiorno a chi ci sta vedendo e ascoltando, ben ridovati a questa nostra diretta a Facebook, sono giorni un po' surreali per tutti, cerchiamo di restare il più possibile uniti seppur distanti e in questo contesto cerchiamo anche di farci una chiacchierata con una visione fiduciosa e positiva di quello che potrà essere il nostro futuro. Mirko intanto buongiorno, come stai? Salve a tutti, buon pomeriggio, tutto bene dai, qui purtroppo siamo chiusi in casa però si va avanti sperando che tutto vada per il meglio. Dove ti trovi in questo preciso momento? Adesso sono a casa mia qui a Prato la Peligna con la mia famiglia. La tua famiglia come sta? Bene, bene, tutto bene, per fortuna nessun tipo di problema. Stai vedendo crescere giorno dopo giorno la tua bambina in un momento come questo, la gioia che sicuramente trasmette una bambina accanto a babbo e mamma è la cosa più bella che ci possa essere, il messaggio di speranza. Sì, diciamo che in questi momenti è abbastanza bui, chiamiamoli così, passare tutta la giornata comunque con lei è qualcosa di più che piacevole quindi anche se in questo momento non ci sono molte cose da fare però la giornata con lei vola. Senti, come si chiama la bimba? La bimba si chiama Aurora. Arrivo alla domanda di un tifoso, Aurora è stato scelto da chi e perché? No, diciamo che appena abbiamo saputo della gravidanza ci siamo detti se è maschio scelgo io, se è femmina scegli la mamma e quindi diciamo è stata una sua scelta, più per piacere che per un motivo vero e proprio. A lei facevano Aurora o Ginevra e alla fine abbiamo scelto Aurora. Senti, qual è il tuo pensiero in questo momento così surreale, in questo momento particolare della nostra quotidianità? Il pensiero è che non si vede l'ora di superare questo periodo, che comunque la voglia di tornare in campo è tanta ma in questo momento più che altro è tanta la voglia di non vedere più persone che stanno male e quindi si cerca di stare il più possibile a casa e di fare il possibile per far passare il primo a tutto questo. C'è qualcosa che ti senti di dire a tutte quelle persone che sono impegnate a vaglio titolo in questo momento in prima linea a far fronte ad una emergenza così vasta? Ma sicuramente ringraziarli è anche riduttivo, però in questo momento non si può fare altro, non possiamo dargli una mano perché meno siamo in giro e meglio è. Quindi in questo momento grazie e sperando che un giorno possiamo contraccambiare tutto quello che stanno facendo per noi. Noi facciamo il tifo per loro allora a questo punto, ci resta questo da fare, dobbiamo fare questo. Esatto, non è che abbiamo altre cose da poter fare, stiamo a casa, facciamo il tifo per loro e speriamo che il prima possibile passi tutto. Come ti stai allenando a casa? Con i programmi che manda il nostro prof che comunque non dico quotidianamente ma quasi ci segue, si fa sentire, ci chiede come vanno le cose e quindi cerco di fare degli esercizi che mi ha dato, varie esercitazioni comunque anche a livello aerobico per quello che si può comunque dentro casa e niente, questo è quello che possiamo fare. C'è un tifoso che ci chiede, ti alleni da solo anche quando c'è la stagione normale, diciamo al di fuori di questa situazione di emergenza? Sì, qualcosina per quel po' che si può fare, sì, anche perché comunque essendo un giocatore professionista non puoi farlo solo al campo, bisogna seguire oltre a varie diete e comunque alimentazioni, anche bisogna stare attenti a casa e quando si può fare degli esercizi, stretching, scarico, per quello che si può. In questi giorni come ti tieni in collegamento con l'allenatore, con i compagni, con la società, con il mondo esterno? Eh, fortunatamente la tecnologia ha fatto passi avanti, quindi tra videochiamate, messaggi whatsapp, chiamate normali, ci teniamo in contatto un pochino tutti e niente, portiamo avanti quello che si può. Senti, te lo senti di lanciare un messaggio, un saluto ai tuoi compagni di squadra, al mister, allo staff, alla società, a tutti i tifosi che ci stanno seguendo? Beh, innanzitutto vorrei dirgli che mi mancano tanto e che questi mesi chiusi dentro casa si fanno sentire, quindi volevo salutarli e dirgli che non vedo l'ora di rivederli e soprattutto di riallenarci tutti insieme. Senti, hai detto prima che chiaramente lo spogliatoio, la partita, tutto quello che è il contorno dell'ambiente calcistico, tutte queste belle cose ti mancano. Focalizziamo un po' l'attenzione su qual è per te il concetto di spogliatoio. Ma lo spogliatoio è la cosa fondamentale nel gioco del calcio. Per me lo spogliatoio è un gruppo di ragazzi che comunque lavorano per un solo e unico obiettivo, che è quello di portare a casa vittorie, punti. Però i legami che si creano all'interno di uno spogliatoio sono indescrivibili, si creano delle cose che a parola è quasi difficile spiegarlo. Ci racconti la tua storia, la storia di Mirko Petrella che nasce in un paese che si chiama Prato-la-Peligna, che è diventato famosissimo per essere tra quelli costantemente presenti nella viabilità nazionale. Ci dici dov'è? Sì, Prato-la è l'uscita dell'autostrada e quindi è abbastanza sentito. Il segreto dello spogliatoio, il concetto di spogliatoio, che cos'è veramente lo spogliatoio? Lo spogliatoio è qualcosa che spiegarlo non è semplice, è sicuramente un insieme di ragazzi che ha come intento quello di portare a casa punti, vittorie, ma soprattutto è qualcosa che ci lega in maniera viscerale, con qualcosa, i rapporti che si creano all'interno di uno spogliatoio sono qualcosa di incredibile, che spiegarlo a parole forse è anche un po' riduttivo. Mirko Petrella, calciatore. Mirko Petrella che inizia a dare i primi calci al pallone, come, con chi, quando? Ho cominciato abbastanza presto con mio padre che è abbastanza malato di calcio, che mi portava a vedere le sue partite. Il primo paio di scarpe me lo compro quando avevo tre anni, quindi puoi immaginare che è passato un bel po'. Poi sono iniziato a giocare qui nella squadra del paese e poi a dieci anni prestissimo agli esordienti mi sono andato a giocare nel Pescara. Da lì è iniziata la mia avventura nel Pescara che si è interrotta nella primavera, quindi ho fatto tutta la trafiga del settore giovanile e da lì il passaggio a Teramo. Il primo anno in D con la vittoria del campionato, poi C2, finale play-off, C2 vinta e così di conseguenza C, Triestina e adesso su Tirol. Veniamo poi ai ricordi del periodo del Pescara. Chi ricordi in modo particolare tra i compagni e tra chi ti ha insegnato a giocare a calcio ed è stato anche un po' un maestro di vita? Tra i compagni come non nominare Donnarumma e Lapadula che adesso entrambi giocano in Serie A. Infatti quell'anno col Teramo vincemmo il campionato di C per andare in B, poi varie questioni extracalcistiche ci tolsero quel sogno. Però noi comunque ce lo sentiamo nostro. Per quanto riguarda gli insegnanti o allenatori, come vogliamo chiamarli, ne ho avuti tantissimi e tutti chiaramente mi hanno dato un qualcosa per migliorarmi e mi hanno insegnato qualcosa. C'è qualche aneddoto che ricordi in modo particolare? Questa è anche una domanda che ci arriva dai tifosi. Aneddoti qualcuno. Ogni anno ha degli aneddoti particolari che poi pensando ci fanno sorridere. Non saprei. Adesso magari l'anno che vincemmo il campionato a Teramo chiaramente si era creato un ambiente all'interno dello spogliatoio, quello che dicevamo prima che era un qualcosa di eccezionale. Quando uscivamo una sera sono successe diverse cose che al pensiero mi fanno tornare a sorridere, ma così come tutti gli altri anni. Con chi sei rimasto in contatto? Si conservano delle amicizie dopo aver vissuto dei momenti particolarmente felici insieme? Certo, quello penso con tanti, non dico con tutti perché non è così, ma con parecchi dei ragazzi con cui ho giocato ancora li sento. E' chiaro che qualcuno leghi un po' di più, con qualcuno un po' meno, però bene o male alla fine l'amicizia la crego un po' tutti quanti. Poi c'è stata l'esperienza a Trieste con un epilogo lo scorso anno bello ma non troppo fortunato. Purtroppo sì, perché meritavamo quella promozione che ci è sfuggita di mano solo ai supplementari della finale di ritorno. Però questo è il calcio e sicuramente se ne prende atto e niente, ti resta il bello, ti lascia la rabbia e l'amaro per quello che poteva essere, non è stato, però comunque si va avanti. Complessivamente cosa ti resta, in particolare negli occhi e nel cuore dell'esperienza in rosso alla bardata? Beh, la prima cosa che penso di non scordare mai è l'arrivo a Trieste appena entrato nello stadio, nel Nero Rocco, che ho detto cavolo, questa è la mia nuova casa. E poi niente, gli allenatori, i compagni di squadra che sento tuttora e che fa sempre piacere sentirli e spesso ci scambiamo, ci ricordiamo delle cose che ci fanno sorridere. Elisa ti chiede, l'estate scorsa c'è stato il trasferimento da Trieste al Sudirol. Come lo hai vissuto? Cosa hai provato? Ma io sapevo che avevo fatto una stagione importante e che andavo in una squadra che voleva fare altrettanto bene e infatti poi l'abbiamo dimostrato sul campo. Niente, chiaramente quando lasci una città sempre un po' di... diciamo non è tutto positivo, però niente, si cambia, si va avanti nella vita, nel calcio, in qualsiasi cosa. Sono contentissimo di aver scelto il Sudirol tra le diverse opzioni e niente. Infatti il campo ha detto che comunque sono andato in una squadra che quest'anno ha fatto meglio della Triestina. Hai già risposto alla domanda di Silvia. Invece alcuni tifosi ti chiedono del gol al Manuzzi. Sintetizzo un po' le varie domande che sono arrivate. Nella Magica Notte di Cesena hai firmato sicuramente una rete da cineteca, da antologia. Intanto quante volte te la sei rivista? Quante persone te la stanno e te l'hanno ricordata? E poi soprattutto ce la racconti nel dettaglio? Beh, l'ho rivista diverse volte, sì, perché comunque oltre ad essere stato un bel gol, è valso anche la vittoria. Quindi è ancora più importante, perché se fosse stato solo un bel gol fino a se stesso, dopo un po' viene dimenticato. Mentre portando a casa una vittoria, quindi è valso ancora di più. Me lo ricordano in tanti, anche ultimamente, quando è uscito il Challenge qualche giorno fa su Instagram, dove si parlava di gol belli, gol brutti e quindi di conseguenza mi hanno detto ma perché non hai messo quello lì e niente, se ne è parlato così. Per quanto riguarda l'azione, è stata un'azione che è partita da lontano, è stata una rispinta di Kevin. Io l'ho controllata e col controllo ho guardato in avanti e chiaramente ero, diciamo, solo perché stavamo difendendo. Quindi ho portato palla il più possibile fino a quando ho visto la porta avversaria. Da lì ho preso la decisione di calciare e tutto è andato per il verso giusto. Senti, domande, botta e risposta. Da Silvia, il compagno con il quale hai legato di più? Legato con tanti, forse mi viene da dire Berardocco per il fatto anche della vicinanza regionale e del fatto che siamo in camera e ritiro insieme. Senti, Gaia ti manda un grandissimo abbraccio da Trieste. Contraccambi? Contraccambio, sì, risaluto. Senti, sempre a Raffica, a chi ti ispiri come calciatore? Di calciatore non ne ho uno preferito, però diciamo che un pochino... Il mio giocatore preferito è sempre stato Roberto Baggio, però diciamo che mi ispiro un pochino anche a Nettled. La squadra del cuore e perché? Juventus, quella è una tradizione di famiglia, diciamo. Rimpianti e delusioni? Rimpianti veramente pochi, delusioni, forse la finale playoff dello scorso anno che sicuramente poteva andare meglio. Senti, Emilio, che conosciamo entrambi da Trieste, ci dice... Scusi, non ho sentito. Allora, Emilio, che conosciamo entrambi, dice... Petrae, ma Aurora ti ha già superato in statura? No, fortunatamente no. Ciao, Emilio, grande. No, però spero per lei che tra qualche anno lo faccia. Ovviamente dice che ti vuole un gran bene e che la domanda era semplicemente provocatoria e spera di rivederti quanto prima. Senti, cosa ti fa rabbiare veramente tanto nella vita? Ma forse il non essere puntuale, quello forse è la cosa che più mi demanda in bestia di tutte. E i tuoi valori prioritari quali sono? Ma senza dubbio la famiglia, quello viene prima di tutto. Poi le amicizie, varie amicizie, il fatto di essere leali con gli amici è la cosa più importante. Pregi e difetti dal calciatore, ovviamente. Pregi, rapidità, qualità e il mancino. Difetti, il destro, l'altezza, la forza fisica. Sei scaramantico? Hai qualche gesto particolare, qualche amuleto, qualche porta fortuna, qualche comportamento particolare? Diciamo non tantissimo, tra quei pochi che ho, uno dei pochi è il mettere prima il parastinco destro e poi il parastinco sinistro, ma non tantissimi scaramantie o robe varie. Hobby? Hobby mi piace... Cosa ti piace fare? Mi piace guardare serie TV. Musica? Musica, ascolto un po' di tutto. Ultimamente mi sto specializzando su canzoni per bambini, come puoi immaginare. Senti, questa ci arriva da Gianna invece. La fiaba o la filastrocca per addormentare tua figlia? La classica ninna nanna, con quella non sbagli mai. Nel calcio hai coltivato tante amicizie? Sì, abbastanza. La prima cosa che farai dopo il lockdown con la famiglia e poi con la scuola? La famiglia sicuramente... Dipende pure che periodo sarà, chiaramente. Se saremo ad allenarci, se saremo a giocare, cambierà. Però penso di andarmi a fare una bella giornata di mare con tutta la famiglia. Tommaso dice... Divi, dimi. No, per quanto riguarda il calcio non vedo l'ora di riallenarmi e di fare tutte le cose che eravamo abituati a fare. Allora, Tommaso dice, fare un'affermazione più che altro, c'è una solida società, quindi si va in serie B. Noi ne prendiamo altre. Sì, con le dovute scaramanzie. Con le dovute scaramanzie, certo. Invece Silvia ti chiede il piatto preferito al tuo tesino. Puoi anche aggiungere quello non al tuo tesino. No, vabbè, al tuo tesino ho mangiato i canederli buonissimi. Poi non al tuo tesino abruzzese gli arrosticini che vanno per la mangiata. Eh sì. Senti, da un tifoso, il tuo messaggio ad un giovane che sogna di diventare professionista? Prima di tutto il divertirsi. Quello non deve mancare mai. E poi le cose vengono da sole, perché se uno sa giocare a calcio ed in più riesce a divertirsi e esprime tutto quello che sa. Senti, ti leggo una domanda che sicuramente tu conosci chi l'ha scritta. A fine carriera potresti giocare una stagione con i Nero Stellati? Ci stai? Ce la devi anche spiegare, no? Chi sono i Nero Stellati? I Nero Stellati sono la squadra del mio paese, che adesso militano in eccellenza, però qualche anno fa erano in Serie D. Spero di sì, spero che almeno un anno qui per i colori del mio paese posso giocarli. Rivolgi un messaggio a tutti i ragazzi che in questo periodo si sono dimostrati particolarmente maturi, responsabili, hanno dimostrato di avere un grande senso civico in un momento così difficile, soprattutto per loro non abituati a stare così tanto in casa. Sì, innanzitutto voglio fargli complimenti perché chiaramente nella vita frenetica che portiamo avanti bloccare tutto e chiudersi in casa non è facile, però è simbolo di maturità e di unione. Quindi complimenti e continuate così perché la strada è quella giusta. La tua speranza immediata per il prossimo futuro, il tuo augurio, che può essere anche un messaggio a te stesso, al prossimo, ai tifosi, quello che ti senti di dire? No, in questo momento chiaramente la prima cosa che viene alla mente è questo periodaccio e questa voglia di uscire il prima possibile da una situazione scomoda. Spero il prima possibile di farlo, di riabbracciarci tutti e soprattutto di esultare allo Stadio Druso come abbiamo fatto spesso quest'anno. Mirko, grazie della disponibilità. Vuoi dire qualcosa a qualcuno ancora, ai nostri tifosi magari? Sì, volevo ringraziare tutti coloro che ci stanno ascoltando, dirvi che non vedo l'ora di tornare su a Bolzano, di riallenarmi e magari di rivederci allo Stadio per tornare a sorridere come sappiamo fare noi. Mirko, grazie della disponibilità, grazie della cortesia. Ovviamente in bocca al lupo a te e a tutti quanti ci stanno vedendo e ascoltando in questo momento. vi ricordo che il nostro prossimo appuntamento è per sabato su Instagram per la diretta con Gianluca Turchetta. A tutti voi ovviamente, questo lo facciamo in coro, Mirko, li invito a restare a casa perché prima o poi tutto questo finirà e torneremo insieme a riassaporare la bellezza della normalità. A te il saluto finale. Ciao, grazie Daniele e buona serata a tutti quanti. Restate a casa che insieme si può.